Ma che sono questi influencer? Tu capirei! Oh, bambini cazzo! Tu muovi solo le mani! Oh, ma perché muovi le mani? Perché fanno le mani così? Ma guarda io maggi! Capirei non è che stia cazzo da me! Stia cazzo da me, stia cazzo da me, stia cazzo da me! Capito Cavi? Oh, e gli altri? Oh, e gli altri? Oh, e gli altri? Scusa ma ci vuoi capire perché non parli? Ma perché sei muto? Ma perché fai così con le mani? Oh, che cazzo che mi fai così? Che cazzo è sto cazzo? Ah, ma fai così! Oh, cazzo dalla palla! Oh, i manichini! Ma c'è sui manichini? Oh, i maneskin! C'è un figlio baciafatti in labio! Tu guardi la banda! Da andiamo! Da uno scoffo in labio! Non ho capito! Non ho capito! Non ho capito! Non ho capito! Oh, feroce! La faccenda era! Caffè dei suoi miti! Oppure ho fatto la cameriera per servire! Oh, mi piace il video? Clicca la campanella! Vai a campanella! La 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 campanella!